Musica Non si ferma il calo dei prezzi immobiliari in Italia. Nel primo trimestre 2016, rileva l'Eurostat, i prezzi sono scesi dell'1,2% annuo contro il più 3% nella media dell'Eurozona, il 4% nell'Unione Europea, in un trend positivo che dura dal 2012. Per l'Italia la tendenza negativa sembra comunque in attenuazione il dato di gennaio-marzo che sul trimestre precedente segna meno 0,4%, andando indietro nel tempo si raffronta con meno 1,7% di ottobre-dicembre 2015, meno 2,3% di luglio-settembre, meno 2,9% di aprile-giugno. Il mattone rimane nei sogni degli italiani e i bassissimi livelli di tassi di interesse sono certamente un forte incentivo per la domanda di credito e spingono il mercato dei mutui e quanto rivela l'associazione bancaria italiana che spiega come grazie anche alle migliori prospettive del mercato immobiliare in ripresa, ci sia stato incremento su base annua del totale dei mutui dell'1,5%. A maggio 2016 i tassi di interesse sui prestiti per acquisto di abitazioni in Italia si sono ulteriormente ridotti. Il tasso medio sulle nuove operazioni, che sintetizza l'andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo, è risultato pari al 2,25% toccando il nuovo minimo storico. Il livello storicamente basso dei tassi, spiega l'ABI, sta spingendo le famiglie a cogliere le opportunità presenti sul mercato e spostarsi verso il tasso fisso. A maggio 2016 la percentuale dei nuovi mutui erogati a tasso fisso ha raggiunto infatti un livello pari al 61%. Dopo i decreti che permettono alle banche di diventare proprietarie dei beni di cittadini e imprese, in decima commissione il governo ha chiesto di ritirare tutti gli emendamenti che avrebbero voluto impedire alle banche di essere proprietarie di agenzie immobiliari. Sul tema si è espresso il presidente nazionale FIAIP Paolo Righi. È sconcertante, spiega Righi, vedere il governo opporsi a una richiesta che gli è pervenuta dalla maggioranza dei partiti che, ricordo, sono espressione del voto popolare. Nonostante questo l'esecutivo ha imposto il suo diktat. Dopo i recenti decreti approvati dal governo che permettono alle banche di diventare proprietarie dei beni immobili di chi è in ritardo con le rate del mutuo, dopo la creazione del Fondo Atlante e la ricerca di altri 40 miliardi per salvare alcuni istituti, il governo assegna alle banche anche la vendita degli immobili. A breve si creerà un oligopolio che permetterà ad alcune banche di concedere il mutuo, espropriare l'immobile di chi è in ritardo con i pagamenti, diventarne proprietario e venderlo tramite la propria agenzia immobiliare facendosi pagare la provvigione. Tassi bassi e alta volatilità portano gli italiani a scappare dai mercati finanziari, a ritornare sul mattone. È quanto emerge dall'indagine condotta da Intesa e dal centro di ricerca in Audi sul risparmio e sulle scelte finanziarie delle famiglie, che in alternativa preferiscono rimanere molto liquide. La ripresa è lenta, ma la crisi sembra alle spalle. Il 60% delle famiglie giudica imminente un miglioramento e oltre il 20% prevede un aumento delle spese. L'ipotesi di interessi a zero o quasi per più anni spinge gli italiani a privilegiare la liquidità a 32% o l'investimento immobiliare il 29%. Considererebbe l'acquisto di una casa per sé il 20% per darla in affitto. Gli acquirenti potenziali di una nuova casa sono tra l'11% e il 19% del campione, il 43% vorrebbe una casa migliore, il 29% ha bisogno di un'abitazione più grande. Cambia il clima anche per le seconde case, il 9% ha intenzione di acquistarla nei prossimi tre anni.